Signori, benvenuti al Massif Caffè Buongiorno Tutti pronti? Carichi? Belli e tosti? Ehi, manuccio, l'orimiglia Ho fatto un lampo, manccio quasi colminato Nonno Elio, vai Nonno Elio Nonno Elio Nonno Elio Nonno Elio Caffè Un pèdanskai d'uken i liben Fora 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 Caffè 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 Il tempo è di Luvia Il tempo è di Pasqua, il pane con il formaggio sotto, il hamburghier e il formaggio sotto E poi seguiamo la ricetta Ma ce l'ha spiegata sempre lui Sì, ma il hamburghier e il formaggio è già messo, c'è anche il popatore Vediamo la cipolla, no? Ciao Ciao Carlo Oh, reate, filmati Ambe E' bella 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no